L'Udc si conferma la quarta anima del centrodestra. Anche alle amministrative abruzzesi, che si terranno il 10 e 11 ottobre, ma che potrebbero essere anticipate di un mese, il partito centrista correrà con Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Abbiamo fatto il possibile per coagulare tutto il mondo civico o chi è nel mondo moderato. È stato un po' difficile perché poi quello che viene fuori è la candidatura di sindaco. Ne erano tanti e avevo chiesto a tutti di trovare una sintesi e di candidare quello che ha più forza, più capacità di governare una città. Abbiamo fatto su Vasto, oggi c'è stata una conferenza stampa, su Roseto, siamo in attesa di Lanciano e di Sulmona. Due città importanti, Lanciano in modo particolare, io poi tra l'altro sono una sorta di lancianese perché sto nella stessa orbita geografica. Anche lì bisogna trovare una sintesi, credo che sia la cosa migliore. Poi va al confronto con gli altri candidati del centrosinistra, del mondo civico, ma ci deve essere un confronto. A Francavilla il candidato sindaco sarà Roberto Angelucci, già primo cittadino, sostenuto anche da Abruzzo in movimento e da due liste civiche. Più si diventa anziani, più ci si emoziona. Questa è una cosa importante, una cosa bellissima. Secondo me fare il sindaco è la cosa più bella, è il momento più di contatto con i propri cittadini. E come sempre dico siamo al fronte, siamo sul fronte e sul fronte speriamo che arrivino sempre i rifornimenti dalla provincia, dalla regione, dallo Stato. In questo momento difficilissimo, di Covid, dove tirarsi indietro, non candidarsi, sarebbe stata una vigliaccata. Allula Stato